La Fontana dei Trevi, il Campanile di Giotto, Piazza San Marco e poi ancora Villaggi Fantastici e il Deposito di Monete d'Oro di Zio Paperone. Così ad Arezzo, in occasione della città del Natale, è sbarcata la grande casa dei mattoncini più famosi al mondo. In Piazza San Francesco è infatti arrivata la Brick House Lego nella Galleria d'Arte Contemporanea, uno spazio magico interamente dedicato ad opere d'artisti provenienti da tutta Italia. Sono dei pezzi unici, direi unici al mondo, è veramente uno spettacolo vederle, è un colpo d'occhio eccezionale. Tre piani di esposizioni e laboratori con oltre 30 creazioni mocca per un totale di 2 milioni di mattoncini Lego. Un percorso unico con grandi artisti di richiamo nazionale che espongono opere uniche, originali e di recente costruzione. Dalla riproduzione di dipinti famosissimi, come la Gioconda, l'Ultima Cene e la Notte Stellata, del famoso artista Marco Mezzina, passando per una speciale sezione dell'Italia in miniatura con i monumenti italiani più belli e famosi. Presenti poi i capolavori dell'arte rivisitati in chiave Lego dall'artista romano Stefano Bolcato, con una sua mostra personale di oli su tela. Quindi insomma l'arte per me è una dimensione onirica in effetti, io la vivo da tanti anni e poi quando si mescola con il gioco questa diventa poi anche una realtà vera. Non poteva infine mancare un'iniziativa natalizia in stile Lego con caratteristici paesaggi di Natale. Uno in particolare con 400.000 mattoncini dell'artista Andrea Cortesi è vicino alla conquista del Guinness World Record per il più grande villaggio di Natale Lego mai realizzato prima.